Cos'è stato in Europa? Ehi, si faccia una baby moon, davvero. Sì, ma non mette il jazz mentre fa sesso, perché ho letto su internet che fa diventare i bambini gay. Il jazz fa diventare i bambini gay, signore e signori. Il jazz fa diventare i bambini gay. Futuro dottore!